State cercando il miglior sito cinese da cui ordinare, sia che si tratti di un privato alla ricerca di articoli economici e affidabili, sia che si tratti di un dropshipper. In questo video vi spiegherò e vi mostrerò perché Temu è la piattaforma migliore. Prima di iniziare, troverete tutti i link nella descrizione di questo video. In particolare, se volete ottenere un buono da 100 euro completamente gratuito da utilizzare su Temu, il link si trova nella descrizione di questo video e nel commento appuntato. Inoltre, se volete ottenere un articolo completamente gratuito, non dovete fare altro che cliccare sul link nella descrizione di questo video. In questo modo potrete scaricare l'app Temu e ottenere tutti gli omaggi e i bonus che Temu ha messo a punto per far conoscere la sua piattaforma. Approfittatene finché è disponibile. Allora, perché Temu è il sito cinese migliore e più affidabile? Innanzitutto, perché consegna molto più velocemente di altri siti cinesi. Temu consegna in media tra una e due settimane, il che è piuttosto buono per un sito cinese. In secondo luogo, la qualità dei prodotti è la cosa più importante. Come si può vedere, i prodotti sono valutati e in generale sono molto ben valutati. Lo si può vedere in molti prodotti. È raro trovarne uno con una valutazione inferiore a 4 stelle e a volte anche inferiore a 4,5 stelle su 5. Tutti i prodotti sono in genere molto valutati e la qualità è abbastanza buona per un sito cinese. Tutti i prodotti sono generalmente molto apprezzati. Ed è per questo che molte persone ordinano da Temu. Come indicato direttamente sulla home page di Temu, si può beneficiare di pagamenti sicuri, di un sito protetto e della tutela della privacy. Temu spiega come riesce a ottenere prezzi così bassi. È semplicemente grazie al fatto che mette in contatto i clienti direttamente con i produttori, il che consente loro di essere eccezionalmente competitivi e quindi eliminando gli intermediari, cioè coloro che aggiungono i loro margini e rivendono il prodotto a un prezzo più alto, aggiungendo anche le spese di consegna. Qui la consegna non avviene in 3 o 4 giorni, ma in una o due settimane, il che spiega anche i prezzi più bassi. Inoltre avete a disposizione un'ampia scelta di prodotti e diverse garanzie di sicurezza, sia per i vostri dati che per la consegna o il pagamento. I resi sono gratuiti e la consegna è gratuita a seconda del Paese. Per questo motivo è possibile ottenere prodotti di alta qualità allo stesso tempo. Come potete vedere, le valutazioni sono eccellenti e alcuni prodotti hanno addirittura più di 20.000 recensioni. In breve, si tratta di prodotti ampiamente ordinati. Approfittatene, è disponibile nella descrizione di questo video. Cliccate sul link e approfittate del vostro buono Temu da 100 euro oppure ricevete anche un articolo gratis. Questo articolo viene assegnato in modo casuale in base al vostro account e al vostro Paese. È possibile ottenerlo gratuitamente installando l'applicazione ed effettuando un piccolo ordine di bonus per ricevere i vantaggi. Ecco, ora sapete tutto su Temu che è destinato a diventare un mostro sul mercato cinese delle vendite online.